E ciao a tutti, eccoci qua, sono MM8, ci siamo qui per un nuovo video, anche oggi, e beh sì, ne è uscito uno l'altro ieri perché sì, ormai ci ho preso gusto sinceramente a questo progetto dello youtuber e quindi ho deciso di risparmiare su due cose e di fare più video a settimana, anziché uno solo che onestamente mi sembrava un po' pochino. E dunque ci saranno un mese all'incirca 4 settimane, 3 settimane su 4 avranno 4 video, il lunedì, il mercoledì, il venerdì e la domenica, di cui il lunedì, il mercoledì e il venerdì saranno video parlati come questo e la domenica sarà una compilation anni 90 e 2000 mixata ovviamente, che sia da me che sia non da me. A proposito, se c'è qualche compilation che vorreste sentire qui sul mio canale, compilation anni 90 e 2000, dance mixata, se c'è qualche appassionato accanito come me me lo faccia sapere qui sotto nei commenti. E sicuramente ve la porterò, non questa domenica e neanche la prossima, perché siamo già d'accordo io e il ragazzo Paolo che mi aiuta con i video per quali compilation mettere. E ve lo dico, dai, ve lo posso dire tranquillamente anche subito, sarà questa domenica il CD1 di DJ Parade Estate 2001 e la prossima il CD2. Quindi tra due domeniche ci sarà un'altra compilation che se qualcuno di voi ha in mente una compilation che magari non ha o che anche solo vuol sentire qui su YouTube, può scrivermelo qui sotto nei commenti e io, se ce l'ho, ve la porto. Oggi però non siamo qui per parlare di compilation, ma siamo qui per parlare ancora più nel dettaglio della partita che si è svolta giovedì scorso tra Alessandra e Padova a cui io e mio padre eravamo presenti lì al Muccagatta. E per farvi vedere qualche video che mio padre ha fatto dei calci di rigore e anche poi dopo la partita delle esultanze dei tifosi e di noi in campo insieme al mister, a un dirigente e anche ai calciatori dell'Alessandra che sono tutti contenti per la promozione in Serie B. Bene, allora buona visione! E' uno l'ha tirato l'oro e l'ha insegnato. Va? Gol! E vai! Vediamo l'oro. L'ho segnato l'oro. Vediamo, mette il pallone. Prende la rincorsa. Vediamo. Sì! 2 a 2! E vai! 2 a 2? Sì. Che dici, Marte? Stiamo a vedere. Abbiamo visto come l'ha parato. Eh, va bene. Tocca a noi. 3 a 3! 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 Vediamo. prende la rincorsa 4 a 3 prende la rincorsa gol 4 pari vediamo questo è il quinto si se segna se adesso segna l'ha tirato fuori ora sta a vedere no 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 che responsabilità che responsabilità porca Valero io mi rifiuterai di tirare non so le palle se lo segna si si se riemi vai Matte a casa andate a casa ciao Matte ciao ciao serie B ciao 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 complimenti e dunque questi erano i video che abbiamo fatto io e mio padre giovedì scorso al Mokagatta durante i calci di rigore e dopo la partita quando appunto l'Alessandria è andata in B e bene buon per loro dopo tanto tempo è sicuramente un sogno che si è realizzato è stato bello anche per noi comunque come vi ho detto l'altro giorno bene io vi ricordo di iscrivervi al mio canale di lasciare un commento che sia un commento sulla partita che sia un commento appunto come vi dicevo all'inizio se volete chiedermi una compilation densa anni 90 e 2000 da portare qui sul canale tra due domeniche se ce l'ho io ve la porto a proposito di compilation di pezzi anni 90 e 2000 volevo salutare una persona che ho già salutato ringraziato proprio nel video che ho fatto lì al Mokagatta mentre c'erano le informazioni della partita sto parlando di Elena che anche lei fa la youtuber per il momento è direi molto più famosa di me però mi piacerebbe un giorno arrivare ad avere gli iscritti che ha lei però comunque volevo ancora ringraziarla anche in un video magari fatto meglio ho fatto insomma con un computer piuttosto che con un cellulare che non si sentiva molto bene insomma magari lei non ci ha neanche fatto caso visto che quel video oltretutto avendolo fatto io da solo senza farmi aiutare da nessuno purtroppo ho messo questo video destinato ai bambini ho messo sì anziché no avrei dovuto mettere no per far sì che voi potevate lasciare dei commenti insomma cosa che non vi è possibile fare visto che io pensavo che mettendosi il video lo potessero vedere tutti invece lo stesso Paolo che ho citato all'inizio che ringrazio di avermi spiegato che non funziona così è un po' un attimino un controsenso diciamo però questo è la prossima volta che mi capiterà magari da San Siro sperando di tornareci presto di fare un video da solo so che devo mettere questo video di destinato ai bambini no in modo tale che voi possiate lasciare i commenti insomma fare tutto quello che fate in qualsiasi video comunque stavo dicendo voglio ringraziare Elena appunto per mettermi spesso nel suo canale mettere il pezzo che magari le chiedo stiamo sempre parlando ovviamente di pezzi ovviamente di pezzi tra gli anni 90 e i primi anni 2000 e sempre pezzi di dance come vi stavo dicendo invece a me potete richiedere delle compilation visto che la domenica porterò compilation anni 90 e 2000 compilation dance anni 90 e 2000 che io ne ho veramente tante visto che sono stra appassionato ed è il mio genere preferito come vi dicevo lunedì ma come comunque già avevo detto ah dimenticavo anche di dirvi che appunto si tre settimane su quattro al mese avranno questi quattro video mentre una ne avrà tre per questioni economiche diciamo e i video saranno sempre a lunedì al mercoledì video parlati e al venerdì la compilation quindi la compilation non mancherà mai sostanzialmente solo che tre settimane al mese sarà di domenica e una sarà al venerdì va bene io mi auguro che vi sia piaciuto questo video e lasciate un commento iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto seguitemi su facebook e instagram e seguite anche la mia playlist del momento di spotify di cui abbiamo parlato proprio lunedì ciao da mm8 tol Grazie a tutti.